Bravissimo, carichiamo le carote sul trenino e poi partiamo. Dove le portiamo quelle carotine lì? Dove le portiamo? Infatti, da dove trasporta tutte queste carotine ha un gran da farsi con questo track. Lui lo riempie e mi fa morire, non mi stanca mai questo bambino. È molto diverso da Vittoria, molto diverso anche da altri bambini che metto su questo canale, però è veramente un tatone simpaticissimo. Qui sole e mare ancora per i nostri Ferragni, il numero due, che comunque non sono da meno dei numero uno, e poi la Gabby Ferragni. Io lo sapete che tutte le persone che hanno cani io le amo, non mettere vuoto, non importa cosa fanno nella vita, ma se trattano bene gli animali, coccolano come Ricchi Nicoletti fa con la sua cagnolina, per me. Numero uno, eccolo qua il nostro Ricchi con Edo sorridenti. E passiamo a Matteo Napoletano, poi di nuovo Edo io vi lascio così, ciao!